Io vorrei fare i miei migliori auguri dal faro a tutti voi e poi un sentito, ma sentito vero, augurio di Natale a Cosmopolis, gente veramente in gamba professionale e comunque di capacità di vedere il futuro in una maniera veramente positiva. Di nuovo rinnovo gli auguri con grande piacere di un grande Natale e una grande serenità a noi tutti e anche, ripeto, a Cosmopolis che sono veramente professionali. Grazie a voi e di nuovo auguroni.